Dalla Corea una decreazione della ministra San Tan Khe. Siamo nella residenza della nostra ambasciata italiana a Seoul, in Corea, e oggi stiamo finendo la nostra prima missione in Corea. Era molti anni, prima del Covid, che non venivo rappresentante del governo. Questo governo invece crede moltissimo nella patria scicola Corea, perché molti, e stanno crescendo sempre di più, sono i turisti coreani che vengono nella nostra nazione, che apprezzano tantissimo, che apprezzano le bellezze naturalistiche, le bellezze culturali, ma apprezzano anche il bere e il mangiare bene. Quindi dobbiamo stringere di più la nostra partnership con questa nazione e abbiamo portato anche gli imprenditori, alcuni imprenditori del settore del turismo, perché ci sono possibilità di investire anche in questa nazione. D'altronde, credo che per l'ospitalità non siamo secondi a nessuno, abbiamo tantissimi imprenditori capaci. A Caivano, che purtroppo è stata la ribalta in questi ultimi mesi, Don Patriciello ha avuto un altro importante incontro politico. E poi...